ciao ragazze ciao a tutte e a tutti allora nuovo video tag ovvero questo è un tag sul mio canale youtube ovvero si chiama video tag il mio canale per l'appunto quindi andiamo subito alle domande sono stata taggata da scarlett diva si chiama così scarlett diva make up quindi andiamo subito al solo ringrazio ovviamente diva scarlett diva make up non so con la sua vero nome ma va beh fa niente allora intanto hanno taggato anche a tre persone a sua volta ma io non voglio allungare troppo a ps ps scusate se sono una mese in modo come si dice non lo so casa legna tipo in pigiama capelli un po sperazzini allucinanti ma sono bellissimi più struccato ma noi siamo tra amiche e amici quindi se non possiamo anche pregare volendo comunque niente andiamo subito al solo e voglio dire il tag è formato da nove domande io devo dire ovviamente le risposte quindi ne ho scritto al dunque allora prima domanda qual è la data della prescrizione no sì esatto scusate la domanda qual è la data di iscrizione del tuo canale youtube allora il 27 marzo 2020 perché prima mi sono scritto a mio a youtube che era nel 2013 no del 24 dicembre poi però io l'ho cancellato per un errore che purtroppo ho fatto in gioventù e quindi l'ho dovuto rifare da capo adesso sto ruotando con noi unghie con i denti per arrivare mille iscritti chissà quando ci arriverò mai forse mai però fa niente è importante che ci divertiamo su youtube e niente quindi 27 marzo 2020 adesso l'ho rifatto sto canale youtube con quale vuoi mi seguite mi seguite quindi seconda domanda che cosa ti ha spinto a prima di un canale youtube sempre stessa identica la risposta un po per la cura della persona un po per il make up e anche perché mi piace guardare i video delle altre vedere la vita degli altri devo dire avete è così poi 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 terza domanda qual è il tuo primo video caricato penso che sia la impostazione trucco se non erro hanno in questo canale prima ho caricato il video di presentazione del canale è un po lunghetto comunque se volete andate a vedere cercate le playlist per il mio canale che lo notate subito che lo vedrete immediatamente sicuramente se lo trovate non è detto comunque sì perché certamente l'ho caricato l'ho messo su youtube il primo video di questo canale youtube che sarebbe quello di presentazione comunque quarta domanda qual è il tuo video con più visualizzazioni nel tuo canale youtube allora diciamo che quello della non troppacuata nel termine strone ma video smr sì mi sembra quello della video smr quel più visualizzato non lo so ma mi sembra di sì poi 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 quarta domanda qual è la soddisfazione dei tuoi video se hai soddisfazione di fatto di quel video si il video è quello che mi ha dato più soddisfazione di quel video di quel video è proprio della smr la dovrei fare la dovrei fare ancora ma non so quando farlo quindi vabbè niente oddio che sopracciglia che dovrei fare poi quinta domanda qual è ad oggi il tuo preferito del tuo video preferito del canale allora tra la smr il make up il mio cavallo di battaglia ragazzi è troppo bello fare il make up solo che non ne sto più facendo ho venito qui torno a fare tra smr e make up anche il vlog non è male mettendoci mezzo video chiacchia gricci chiacchia gricci poi ehm sesta domanda si allora così allora sesta domanda un video che ti è piaciuto molto ma non è altrettanto piaciuto al pubblico ma forse i video di pulizia motivazionali che devo ancora saperli fare bene per capire bene come strutturare bene al meglio i video pulizia motivazionali quelle non fanno impazzire molti pubblici forse un po si ma non alle streams di altri youtuber che io conosco però vabbè mi accontento lo stesso che ci posso fare poi ehm settima domanda settima un video in cui non sei nulla soddisfatta o soddisfatto non lo so forse il video appunto sia pulizia che anche video chiacchia griccio e piace ma non ho tanto quanto il video smr non lo so forse perché quelli rilassano non ho idea poi ottava domanda cosa ne pensi cosa ne pensi della tua community di youtube ehm ma non è male dai insomma ogni tanto mi becco qualche like non sempre però vabbè ci sta perché non è che tutti visualizzano la mia community del mio canale se tu ti scordi la ma guardo per vedere se arriva mio zio o non lo so vabbè o qualche cagnolino perché abbiamo cagnolini giù comunque niente ehm sì ragazze la community ogni tanto vedo qualche like e anche qualche commento però tutto il resto bene progetti futuri per il tuo canale youtube ehm non lo so spero appunto di arrivare i miei iscritti e di fare più contenuti non sempre tutti uguali perché mi accorgo che sono tutti uguali ehm non quasi non tutti ma quasi diciamo per la maggior parte e dovrei variare il che quando vario perché gli anni passati quando variavo cioè nel senso quando facevo contenuti l'uno diverso dall'altro mi accorgevo che ehm erano più erano più piacevoli da vedere più piacevoli aiuto da guardare ma soprattutto era più seguito il mio canale non lo so perché forse per continuare a fare così più più variare più contenuti versi più sostanza e più creatività e così il canale forse va avanti ma non lo so dipende anche dal pubblico che mi segue e da quello che si aspetta da me come io quello che mi aspetto dagli altri non lo so dipende tutto da lì non lo so vediamo comunque i progetti futuri che ho pubblicato dall'opera detti sono arrivare mille iscritti e cercare di variare cosa che io non sto facendo e mi sto veramente arrabbiando con me stessa perché è vero voi dite ma pretendi troppo da tu dagli altri o anche da te stessa si pretenderlo non dagli altri ma più che altro da me stessa di impegnarmi meglio e di cercare di impegnarmi nelle cose che piacciono più a me cosa che non riesco a fare perché non lo so cosa mi sta succedendo comunque vabbè niente nulla il video non so quanto sia durato io adesso taggo altre persone ogni volta non dico i nomi perché altrimenti non so se mi guardano però vabbè o magari mi sentirò ridicola o vedranno ridicola gli altri ma non credo non voglio farmi queste idee sbagliate perché so che mi volete tutte bene e che tutte ci tenete a me forse sarà una mia ingenuità non lo so vediamo comunque niente ragazze questo era tutto non ho detto all'inizio ma lo dico sempre alla fine perché non voglio stare una macchinetta parlante in contenazione se vi va vi invito a spollicciare nel su a commentare e a iscrivervi al mio canale per l'appunto se vi piace e se vi interessa soprattutto e attivate la campanella qualora voi siate interessati a vedere il mio contenuto niente ragazze io vi taggo qua sotto deciderò chi taggare perché ancora non ho la più pallida idea c'è uno già in mente però anzi ci avrei a stefi de marco stefi la pirottina però vorrei taggarne anche altre non so ancora chi beh magari altri l'hanno già fatto però allora io taggare stefi da marco e lisa come si chiama vabbè vi taggo ragazze vi taggo tutte nel senso quelle che riesco a ricordarmi e lisa style o my style o qualcosa del genere comunque guardate nell'info box che vi ho taggato ok bacio non vi sentite offese se non vi ricordo di tutte però io ah questo tag è stato idealizzato da scusate mi pare se non è capito male la bambina mal cresciuta ossia veronica e le gioie di bea di beatrice mi pare una delle due adesso mi sto un po' confondendo però penso che sia così comunque niente io qua sto leggendo una cosa che è stato idealizzato da le gioie di bea non ci sto capendo comunque qualsiasi domanda riferimento chiedete non a me ma che altre o rispondete sotto i commenti da che è stato utilizzato questo video così mi correggete e io lo scrivo per correttezzare l'info box bene io non metterò le domande perché io non sono anche capace quindi vabbè niente bacio adesso mi farò tutto da computer se mi riesce ciao a presto e cosa dire buona domenica ciao ciao